Bentornati sul canale amici miei, oggi voglio parlarvi dell'esordio alla regia di Michela Giraud. Flaminia, un film che possiamo trovare nelle sale italiane dall'11 aprile del 2024. Michela Giraud l'ho scoperta nella prima edizione di LOL chi ride è fuori e come comica non mi aveva detto alcunché, però mi piace sostenere il cinema italiano, per di più avevo letto delle recensioni abbastanza positive e quindi sono andato a vedere questa sua opera prima a Luci Cinemas di Bicocca. In sale eravamo pochissimi, due persone, ma al box office non sta andando bene, anzi dopo quasi una settimana lo stanno già togliendo. La pellicola vorrebbe parlare di un tema importante come quello della disabilità in famiglia perché si racconta la storia di Flaminia interpretata dalla stessa Michela Giraud che lavora alla sapienza, che vorrebbe sempre essere al centro dell'attenzione per farsi accettare dalle sue tre amiche molto frivole che puntano solo alla superficie delle cose. Ha una famiglia con cui ha un rapporto altalenante, anche la madre tenta sempre di essere al centro di tutto, di farsi vedere sempre in modo sgargiante, insomma un pochino dedita alle attenzioni del prossimo, fino a che in scena non entrerà la sorellastra di Flaminia, cioè Ludovica interpretata da una molto brava Rita Abela che ha un disturbo dello spettro autistico. Dopo aver tentato di bruciare il suo letto in comunità viene cacciata e quindi i genitori dovranno vivere con Ludovica e lì il film vorrebbe proprio far capire quanto per queste persone che hanno una disabilità, che può essere non solo fisica ma anche mentale, quanto sia difficile per queste persone accettarsi, trovare il proprio posto nel mondo, svegliarsi la mattina con la consapevolezza di non sapere quel che succederà. Ma allo stesso tempo Michela Giraud vuole affrontare questa cosa anche dal punto di vista della famiglia, di coloro che sono vicini a queste persone problematiche, quindi parlare della difficoltà del nucleo familiare a superare certi ostacoli ed effettivamente devo dire che un film che tratta certi temi come Flaminia non è che si vede ogni giorno. Il problema è che l'ho trovato veramente poco equilibrato nel saper gestire la parte comica e quella drammatica e soprattutto nel primo tempo tenta ad ogni costo di voler far ridere con una voce fuori campo che fa continui riferimenti alla cultura pop ma non solo, con situazioni al limite del demenziale che poi vanno a cozzare con un secondo tempo dove invece repentinamente si inserisce la componente drammatica che lungi da me criticare anzi noi in Italia grazie alla commedia all'italiana abbiamo fatto film che ci invidiano in tutto il mondo la commedia all'italiana sapeva trattare in termini ironici come dico sempre vicende drammatiche però bisogna anche saperlo fare perché c'è un sottile c'è un sottile bivio fra un film che sa dosare tutti questi ingredienti e quindi farci ridere al contempo riflettere è un film che butta dentro attraverso toni e registri differenti varie cose con la possibilità di risultare un po' un pasticcio di vari elementi e io guardando Flaminia mi sono reso conto di trovarmi di fronte alla seconda opzione che vi ho appena detto poi non è certo un film pessimo anche se il primo tempo l'ho trovato decisamente irritante proprio per la continua volontà imperterrita di voler far ridere a tutti i costi scatenando almeno in me l'effetto opposto mi sarebbe piaciuto vedere un maggiore equilibrio fra la parte più comica e la parte più drammatica non è facile fare la vita è bella eppure se ci si prova a me fa sempre piacere quando si tenta di osare nel cinema italiano per di più michela girò per realizzare questo film si rifà alla sua storia biografica quindi pensando a sua sorella cristina ci sono degli elementi reali quindi si vede che è un film fatto con il cuore tutto ciò però non basta come dico sempre non conta il cosa ma il come inizialmente il film avrebbe dovuto raccontare tutta un'altra storia anzi doveva parlare di una ragazza molto magra come ho letto su internet ben inserita nella società cioè quella ragazza che michela girò sognava di essere quando era una ragazzina poi da lì invece assieme agli sceneggiatori hanno deciso di inserire il personaggio di ludovica che si rifà alla sua vera sorella cioè cristina e quindi è nata un'altra pellicola dove nel cast troviamo anche antonello fassari nei panni del padre delle due sorelle rita bella nei panni di ludovica c'è lucrezia lante della rovere che dopo il pessimo egno doris c'è anche domani interpreta francesca la madre di flaminia e poi abbiamo anche la partecipazione amichevole di enzo salvi per dire o di fabrizio colica poi abbiamo ludovica bizzaglia che è una delle tre amiche però anche i personaggi secondari sono poco sviluppati così come il ragazzo di flaminia con cui la protagonista sta per sposarsi sono personaggi a malapena abbozzati inizialmente sembra che il focus del film sia il matrimonio sempre più imminente con tanto di conto alla rovescia al giorno dello sposalizio ed invece poi subentra il personaggio della sorella il matrimonio viene messo in secondo piano e si vorrebbe mostrare questo rapporto complicato fra queste due protagoniste femminili che sono sorellastre come poi scopriremo durante la visione fino a che un po' prevedibilmente ma non è questo un problema nel secondo tempo quel rapporto difficile si trasformerà in un rapporto complice però sicuramente non facile quindi un rapporto d'amore odio che verrà sviluppato con delle scene anche drammatiche michela girò è capace di recitare lasciando da parte il registro comico il problema è che questo cambio di registro repentino non aiuta il film a decollare sembra di vedere due pellicole diverse cioè trovare il giusto equilibrio fra la parte più scansonata ai limiti dell'assurdo e la parte invece tragica è difficile michela girò secondo me non ci riesce poi nell'ultimo atto proprio quando il film ormai è diventato drammatico prova a inserire nuovamente a mio avviso in modo forzato la componente comica che risulta estraniante risulta difficile da digerire con un finale che senz'altro sa essere suggestivo sa essere anche in grado di far riflettere ma manca sempre qualcosina determinate cose restano in superficie sono a malapena scalfite quindi no a me questo film non è piaciuto nonostante riconosca gli sforzi nonostante apprezzi il fatto che una comica non sia voluta rimanere soltanto nel campo della rissata trattando un tema insolito nel panorama cinematografico nostrano e in un periodo dove la commedia all'italiana si fa sempre più raramente però nel complesso questa prima pellicola d'esordio non mi ha convinto come avrei sperato poi magari michela girò saprà sorprendermi maggiormente in futuro io adesso passo ad una parte spoiler quindi vi chiedo di farmi sapere la vostra nella sezione commenti vi ricordo che nelle info potreste trovare tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale e che se deciderete di abbonarvi riceverete in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana quindi andiamo con gli spoiler allora sin dall'inizio non sono riuscito a entrare in sintonia con alcun personaggio ma anzi la voce fuori campo continua di michela girò tra vari riferimenti alla cultura pop da che ne so diletta leotta a la serie del momento a addirittura un riferimento a totorrina non riusciva a prendermi non riusciva a divertirmi poi il rapporto di flaminia con le amiche mi sembrava troppo macchiettistico finto cioè posso capire voler mostrare in questa roma nord un gruppo di amiche antipatico con la puzza sotto al naso però non riuscivo a provare alcuna alchimia così come con il ragazzo di flaminia che in realtà è un cocainomane che se l'è ripassate tutte e quindi dovrebbe essere un personaggio anch'esso che sfrutta la bontà di flaminia una flaminia che si sente comunque molto figa che ogni giorno tenta di farsi accettare illudendo le amiche di non mangiare niente quando in realtà vorrebbe strafogarsi con un certo tipo di cibo quindi tutti i temi che avrebbero potuto oltre che divertire anche far riflettere ma che non sono approfonditi come ci si poteva aspettare sembra che il film voglia affrontare oltre al tema che poi arriva della disabilità anche il body shaming determinate cose invece risultano a malapena scalfite poi entra in scena rita bella nei panni di ludovica che è l'attrice più brava all'interno di questo film quindi il rapporto complicato con flaminia ma anche con i genitori che quando vogliono sanno essere opportunisti ludovica che darà veramente del filo da torcere alla sorellastra ci saranno dei momenti dove flaminia non riesce più a sopportarla anche lo spettatore prova fastidio prova una sorta di rabbia nei confronti di ludovica ricordandosi sempre poi che comunque è malata quindi michela girò riesce a far capire cosa significa avere in casa una persona con disabilità e mi dispiace bocciare il film proprio perché aveva scelto una storia molto importante da raccontare mi dispiace perché aveva scelto una bravissima attrice però o fin dall'inizio mi fai un film drammatico con alcuni momenti più ironici ma sempre sulla falsa riga dell'amaro dell'amarezza oppure se vuoi passare dalla comicità più demenziale visto che il film inizia con un incidente caspita una macchina ha buttato giù un passeggino e dentro c'è un canino devi saper passare poi al tragico in maniera convincente cioè devi saper amalgamare bene i diversi ingredienti di un film che secondo me sbaglia proprio nel cambiare repentinamente tono e registro dimenticandosi di essere un film che fino a poco prima tentava a tutti i costi di far ridere per poi reinserire la comicità sul finale quando in un momento che dovrebbe essere devastante a livello di narrazione perché si scopre che uno degli addetti alla comunità picchiava la sorella l'offendeva la trattava male quindi tu lì sei di fronte ad un colpo di scena in un momento in cui il film ha preso una strada drammatica e mi concludi tutto con lei che va lì assieme al padre interpretato da antonello fassari chiude la porta e picchia questo tizio con i suoni alla fantozzi no o ribadisco mi fai tutto un film dove il dramma si abbraccia bene alla comicità e quindi senza esagerare trovi il giusto compromesso oppure mi fai sin dall'inizio un film drammatico perché così non riesco a capire quanto il film voglia essere un voglia essere seriose quanto invece voglia far trionfare una comicità anche quando non richiesta una comicità sopra le righe anche quando non richiesta quindi boh poi le tre amiche non mi hanno detto alcunché è forte la scena in cui nel bagno parlano male di flaminia della sorella e lei esce fuori e con uno sguardo le ghiaccia quella scena mi è piaciuta per dire ma ci sono dei momenti intensi quando ludovica scappa via durante questa cena dopo aver ascoltato quei brutti discorsi nel bagno e viene portata via con la forza su un'ambulanza solo che anche lì dici oddio è cambiato tutto in maniera così improvvisa però quell'equilibrio di cui vi parlavo fino ad un attimo fa si fatica a percepire a scovare quindi questo è il mio parere su flaminia che comunque potreste trovare nelle sale visto che sto parlando con spoiler presumo che l'abbiate già recuperato fatemi sapere la vostra nella sezione commenti discutiamone magari a qualcuno di voi è piaciuto di più a me ha effettivamente lasciato molto neutro con un primo tempo che mi irritava quasi lo definivo insostenibile perché è un tipo di comicità che non mi diceva niente con un secondo tempo che migliora ma che comunque non riesce ad essere all'altezza delle premesse quando si capisce dove la pellicola vuole andare a parare la scena in cui lei se ne frega dei giudizi altrui e va a mangiare in questa osteria sul mare censo salvi che interpreta il cameriere è molto sicuramente interessante come scena quella lì è una delle più riuscite forse assieme a quelle con la sorella di flaminia perché flaminia vive in continuazione con il terrore di essere giudicata dalle amiche invece si accetta per per com'è e quindi se ha voglia di mangiarsi un piatto di pasta lo fa senza per forza doversi sentire criticata o oppressa però anche il matrimonio lei sceglie all'ultimo di non sposarsi nonostante tutti gli invitati nonostante il giorno del matrimonio sia giunto però non si mostrano le varie reazioni le conseguenze lei va dalla sorella il sottotesto è avrò deluso tutti quelli in chiesa ma ho fatto felice la persona per me più importante cioè ludovica il film finisce invece avrei voluto vedere proprio la ribellione di flaminia nei confronti di tutta questa gente che sempre l'ha usata che sempre l'ha criticata quindi fammi vedere una scena in più in cui lei si prende la sua rivincita in cui lei in un periodo anche dove si parla di giustamente uguaglianza emancipazione della donna avrei voluto vedere la sua rivalsa sul fidanzato ormai futuro marito che le dice noi non ci amiamo ma ci meritiamo ma come ci meritiamo fammi vedere veramente flaminia che si riprende in mano la sua vita mi hai accennato che potrebbe tornare con il suo ex fammi vedere come entra in chiesa e manda tutti a quel paese e dice no io voglio stare con mia sorella voglio stare con chi veramente mi ama non lo so non sono io uno sceneggiatore ma mi sarei aspettato quel qualcosina in più che invece viene suggerito e che resta invece in superficie non chiedevo un film didascalico ma sicuramente un film più forte sul finale più d'impatto meno anticlimatico sotto certi aspetti e soprattutto no non mi puoi far capire che la sorella viene malmenata e tu arrivi e fai una scena alla bud spencer e alla terence il con i colpi in sottofondo no 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 c'è questo squilibrio fra comicità e dramma comunque questo è il mio parere a riguardo fatemi sapere la vostra noi ci vediamo per una prossima recensione un caro saluto un abbraccio e alla prossima